Se anche tu, come me, utilizzi un Mac, questo video ti tornerà particolarmente utile perché ti mostrerà alcune funzioni che sono già integrate all'interno del sistema operativo e che ti permettono, per esempio, di trasformare un'immagine in un PDF, rimuovere lo sfondo oppure convertire quell'immagine senza dover utilizzare software da scaricare direttamente dallo store oppure utilizzando applicazioni di terze parti. Prima però di andare a vedere di che si tratta, come faccio sempre, ti chiedo se ti fa piacere iscriviti al mio canale così da aiutarmi a crescere qui su YouTube, lasciare un like se al termine di questo video l'avrai trovato utile e soprattutto attivare la campanella perché in questo modo potrai rimanere aggiornato o aggiornata su tutti i miei contenuti digitali dedicati alla tecnologia. Allora, andiamo a vedere queste funzioni integrate sul tuo sistema operativo Mac OS e che vedrai ti torneranno molto utili. Immaginiamo di voler attivare le funzioni di cui ti ho parlato su questa immagine che è scaricato da Internet. Che cosa dovrai fare? Molto molto semplice. Ti basterà fare tasto destra sull'immagine, dopodiché andare sul menu azioni rapide e vedrai che qua sulla destra si aprirà questo menu a tendina nel quale avrai oltre alle funzioni classiche di rotazione verso sinistra o di modifica, ecco quello che ci interessa. La possibilità di creare un PDF direttamente dall'immagine, quindi ti basterà selezionarlo e come vedrai in automatico verrà generato il tuo file PDF oppure sempre tramite le azioni rapide potrai convertire l'immagine e avrai a disposizione, oltre al suo formato di origine, anche l'estensione PNG o HIF, H-E-I-F, oppure per esempio, una cosa che io trovo molto utile, nuovamente tasto destro azioni rapide, rimuovi sfondo e guarda qua ti avrà generato una copia dell'immagine che è perfettamente scontornata senza che tu abbia dovuto utilizzare alcun programma di fotoritocco o qualche applicazione esterna. Utile, no? Come hai visto, non ho dovuto installare assolutamente niente sul mio Mac, in questo caso io stavo utilizzando un MacBook, ma come ti ho detto all'inizio, questo vale anche se tu stai utilizzando un qualsiasi altro computer Mac, le troverai già installate, cioè già attivate all'interno del tuo sistema operativo e ti consentiranno di velocizzare molto le operazioni, perché la conversione delle immagini, l'esportazione in PDF e soprattutto la rimozione dello sfondo sono quelle piccole utility che davvero spesso vengono utilizzate nel lavoro online. Direi che però per questa guida dedicata alla tecnologia e al Mac è tutto, ma solo per il momento, Andrea Meini alias Dot Zivago ti saluta e ti rimando al prossimo video. Ciao, a presto!